Non è il mio costume preferito, ma è il mio cappello preferito, che è questo qua, lo vedete bene? Non è il costume da mani per esedizionisti, questo è il cappello di mio nonno, ma poi che resta del cappello di mio nonno? Quando ero piccolino io cerchavo di imitare tutti i personaggi che vedevo alla televisione, oppure al cinema, sono сделал, ma nel maggio così, è la del cappello di massa static, appunto per esempio se vedevo alla televisione un film, i prebosa sentini immaginavo di essere italiani, uno per tutti e tutti per uno! Poi magari guardavo film eter, The Cowl's, te's ero John Wayne! e poi per esempio di sera alla televisione c'erano anche dei film delle quarti una volta lo ricordate per esempio Don Camillo? eh Don Camillo lo ricordate? oh lo ricordate Don Camillo? si tutte le signore che erano tutti 35 anni si ricordano Don Camillo e se un altro film Don Camillo mandava a Roma per diventare un cardinale no proprio, pure io sognavo di essere Don Camillo cardinale e da Roma alla Sicilia anzi alla Spagna dove Don Camillo diventava Escamillo e il mas grande torrero del mondo il venerdì sera, il venerdì sera in televisione per chi se lo ricorda c'è un programma che si chiama più o meno il teatro in televisione e io quando vedevo questo programma immaginavo di diventare un attore un grande attore che interpreta Arlechino Arlechino servitore dei padroni ecco qua buonasera si appena non sarà la legna degli padroni però se guardavo un film d'avventure potevo immaginare di essere, che so, Lord Nelson quando è più serio, per esempio, il film di Orson Welles' Citizen Kane allora è la vittura l'avvocato era come dei piccoli viaggi di fantasia però però con la mia fantasia andavo lontano andavo lontano, lontano anche in altre città, in altri paesi per esempio mi immaginavo di essere a Londra e se ero a Londra immaginavo pure io di essere più grande, più bello orologio di Londra naturalmente, the big fan of London quindi non c'entra col cappello allora adesso andiamo a Hollywood a Hollywood, dove l'italia immaginavo di essere la bellissima Gloria Swanson nel viare del tronco però però io ci sono delle informazioni e mi fa piacere ma no, rimaniamo qui noi rimaniamo l'Italia, l'Italia, l'Italia che è il mese del lavoro, eh signora eh, non è vero? convintissima, sì come diciamo, che si chiama? Rossè è l'unica cosa che faccio qua, eh è bellissima, Rossè, Rossè cioè che quando io ero, per dieci anni mi immaginavo, mi sognavo che sarei diventato un grande latinofra come Casanova che vedevo un tagliere dei figli di Piazzini e lei propone di certesimo che fu a Casanova lo stenda sei bella come una mortadella no, perché? oh, adesso qui si vuole fare un indovineo un indovineo per tutti i bambini eh? vedo che ci sono dei bambini eh? quanti bambini ci sono? allora vi faccio a prima urlare ci sono i bambini qui dentro stasera? sì sì c'è la fortuna a 10-60 anni sì allora tutti i bambini quelli veri e quelli che sono i bambini del cuore eh, eh, eh io faccio un personaggio facile, facile si può grigare forte, si può fare un casino chi se ne frega i grandi tanto di solito pagano orvi chi è questo qua? rom, 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 rom rom, 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 rom rom, rom, rom rom, rom, rom capito l'uncino bravissimo no, mi fa piacere perché si fa a mente adesso ti rispondo Jack Sparrow e capisci che è passato una generazza per i bambini hai visto, eh? proprio il caffè non puoi essere brutto, vecchio, stifoso ma è carino carino con un pepè un pepè dei cartoni animati per esempio questo qua io non voglio il mio caffè non voglio il mio caffè non voglio il mio caffè ma per favore oh siamo cieli siamo cieli un personaggio sedio personaggio sedio io sognavo durante la settimana santa quando alla televisione ci pecavamo tutti quei film sulla vita dei santi io immaginavo di essere Santa Caterina Santa Caterina a piedi in un rito Santa Caterina a torre per i signori invece il momento più giocoso della mia giornata veramente era quando immaginavo di fare il giro intorno al mondo in 80 personaggi e il mio giro cominciava sempre in Russia dove immaginavo di essere il cosacco del Zara e la Russia è passata in Svizzera dove diventavo una interna in interna però principale carlo a cavallo e adesso il suo cavallo, il suo cavallo. Ma qualcuno ha capito, ma è il tuo cavallo. Allora troviamo un napolico, un napolico degli anni cinquanta, dove intanto io cerchiamo di essere la bellissima Elisabeth Taylor di Cleopatra. Oh, non è il mio whisky. Oppure Rossello Ara, quella di via col vento. Non è il portafogna e ne ha corretto. E con quella di via da Rossella. Alcuna, 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 alcuna. Nessuna paura, è il pompiere coraggioso. Il pompiere che diventa il sento di un samurai. Ma quando erano la mente, erano la mente, arrivano la mente. E' una cosa più grande, perché sono più grande e certamente il più lungo film di tutta la storia del cinema in Italia è Napoleone. E' una cosa più grande, perché sono più grande e certamente il suo cavallo. E' una cosa più grande, perché sono più grande e certamente il suo cavallo. E' appuntare se hai più capelli o se ne sono più più all'interno del museo. A me basta questo, che lo metto nella ricerca. E' più poco, si arrotola in tasca. Anzi, uno sembra anche più ben disposto, adesso è il signor Inejo. Non ce lo dare, oppure il cappello argito. E questo cappello, tanto per chi poi è curioso qua del cappello nero, dell'oggetto cappello, non è che è diventato l'igno questo arrotizio, però il cappello col lungo è stato diventato nel 1618 da un italiano che si chiamava Damarino di Valguardesca, la mia amica costumista a Santuzza Carrino. Poi facciamo un applauso alla mia amica che è... C'è un lavoro che diceva tanti anni fa, non diciamo quattro anni fa, ha dei bellissimi costumi espostri sopra nella sala dispositiva del museo, ed è una che ha chiarito poche cose meravigliose. Quanto stracci diventa costumi da re, è bellissimo, è veramente ingentro. E allora ti raccontavo, questa cosa si fa sempre tagliare. Poi questo signor Tabarino di Valguardesca è partito dall'Italia e andò a Parigi con questo cappello che faceva sulle piazze pubbliche, che il contemporaneo c'era tramite animato che sembrava parlasse. E lui alla fine dello spettacolino vendeva lo sciroppo, che era quello che faceva mangiare la famiglia, di cappello, così faceva tirarla. Quindi adesso passiamo con lo sciroppo, ti vuole lasciare un'offerta. Eh sì, eh sì, è sintetico, non è il bossalino, mi spiace, no. Però... Ah vabbè, è vero, grazie. Grazie a tutti.